Sì, effettivamente erano un po' rumorosi. Ciccio, tu che cosa ne pensi? Vedete? Anche Ciccio è d'accordo. E ci sono delle barche con i remi e si va nei posti isolata. Si dice, si dice. Ciccio, tu che cosa ne pensi? Vedete? Anche Ciccio è d'accordo. Anche se io volesse assecondarvi in questa vostra cosa, Ciccio che ha la testa sulle spalle me lo impedirebbe. È vero Ciccio, parla. Avete visto? Che mi dice? È d'accordo. È d'accordo.